Si avvicina il tutto esaurito per il Gran Premio del Made in Italy di Imola in programma dal 22 al 24 aprile l'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Siamo infatti arrivati a quota 120.000 tagliandi venduti, ne mancano poche migliaia ancora. Per rendere il soggiorno di questa marea umana in terra imolese, l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria hanno realizzato un ricco calendario di eventi e iniziative che spaziano da mostre fotografiche a incontri e convegni, dallo shopping con grandi sconti allo street food al parco, infine con serate animate di musica e molto altro ancora. Gran Premio di Formula 1, una grande occasione per collegarlo alla città, al city dressing ma soprattutto a tante iniziative nel centro storico. Alcuni progetti, The Sound of Imola, Terra e Motori ma in generale quello che è un city dressing che ci accompagna dal casello autostradale fino alla stazione dei treni, dalla stazione dei treni fino all'autodomo. Tante iniziative nelle piazze, mostre sia all'aperto che diciamo qui alle nostre spalle anche nel palazzo comunale, oltre a rinnovare un'apertura speciale della mostra di Marco Simoncelli alla Rocca e tante altre iniziative. Saranno concentrate principalmente il venerdì e il sabato insieme anche alle associazioni di categoria, ai commercianti che hanno deciso di uscire insieme e creare delle iniziative collaterali legate non solo alla parte motoristica ma anche alla musica e allo spettacolo. Qualche sfilata e parata della Motor Valley, qualche altra iniziativa, sarà presente la polizia stradale con un progetto sulla sicurezza stradale, il repremo, il parere Bacchilega, tante altre occasioni. E questo anche in un city dressing che accompagna non solo al Gran Premio di Formula 1 ma anche agli eventi successivi, quindi ai concerti e le altre iniziative che avremo nei prossimi mesi. Un'occasione importante anche per vivere storie della Formula 1 a teatro sia con i ragazzi e le ragazze delle scuole ma anche la sera con iniziative dedicate alla città.